A distanza di anni, organizzate ancora una volta questo torneo per veterani, si torna a giocare a tennis e soprattutto i veterani possono tornare a giocare a tennis? Assolutamente sì, noi siamo stati gli ultimi a fare il torneo veterani nell'anno 2020. A febbraio 2020, prima che si chiudesse tutto per causa Covid, noi abbiamo organizzato l'ultimo torneo nazionale in Abruzzo. E siamo lieti e orgogliosi di poter riorganizzare il primo torneo nazionale, ovviamente in Abruzzo, veterani per l'anno 2021 e questo dal 22 di luglio fino al 30 di luglio. Chi parteciperà? Guardi, noi ci auguriamo tanti perché comunque la sete di gioco c'è. I veterani, tenga presente che sono le persone che giocano di più nel mondo del tennis perché sono coloro i quali dopo i 30 anni, 35 anni frequentano di più questo sport. E quindi noi ci auguriamo di avere un buon numero di partecipanti. La pandemia, come dicevamo, ha bloccato questi signori che purtroppo sono stati gli unici a non poter giocare a tennis durante il periodo di lockdown. Verissimo, perché nel periodo di lockdown si potevano giocare su tanti tornei open, approvati oltretutto e validati dal CONI. Quindi gli tornei open sono quelli con monte premi. Nel settore veterani è stato il settore come i giovanili, diciamo che è stato penalizzato dal Covid totalmente. E speriamo che il Covid ce lo lasciamo un po' alle spalle e si possa riprendere l'attività in tutto e per tutto e che gli veterani possano crescere, considerando che è un movimento molto importante per il tennis italiano. Non solo veterani al circolo tennis, ma anche i bambini che si approcciano allo sport per la prima volta. Assolutamente sì, come vedete dalla mia maglietta, noi siamo un centro CONI EduCamp, siamo con i bambini del centro CONI EduCamp che stanno qui da noi dal mese di luglio in poi, che ovviamente fanno attività sportiva multisport, proprio per promuovere qualsiasi attività. Non faranno altri soltanto multisport, ma fanno anche attività ludico-manipolativa, fanno musica e quest'anno abbiamo inserito anche il mare e lo yoga. È una disciplina molto importante e i bambini sono molto contenti di questo.